Mi sta seguendo? Beh, diciamo così... Sei molto cattiva... E io ti aiuterò... Che ci fai qui? Sta lontano da lei! E va bene... Tu o lei fa lo stesso... Pegliacco! Rimani a terra... Andrà tutto bene... Andrà tutto bene... Ormai è finito... Non devi dire mai... È tutto finito... Sei pesante! Voglio raccontarti una storia che mi riguarda... Non credo che tu abbia mai conosciuto mio padre... Ma certamente non ti sarebbe piaciuto... Comunque... Quando mia madre morì... Lui cominciò a trafficare sul suo cadavere... Non so bene perché... Io ero lì che guardavo mio padre che tagliava e faceva piccoli pezzi mia madre... E io me lo ricordo come se fosse ieri... E... Mi disse... Con sorriso sulla faccia... Voglio che guardi figliolo... E... Cominciò a squigliare... Il volto di mia madre... La spellò per bene... Beh... Cominciai a dare di stomaco... Come puoi immaginare... Insomma... Avevo solo sei anni... Cosa si aspettava da me? Comunque lui mi picchiò... Ma dire notciò a granularita... Abono... Cum canale... Ehi vediamo... A... Ehi-è...